Capelli più sani e belli con maschera alla cannella. Grazie alle sue proprietà medicinali, la cannella può diventare un ottimo alleato per la salute dei nostri capelli, aiutandoci a combattere la forfora e donando lucentezza e forza alla chioma, la cannella è una delle spezie più usate in cucina. Di certo le sue proprietà non finiscono con il suo sapore delizioso. In questo articolo vi suggeriamo di preparare alcune maschere a base di cannella che vi permetteranno di avere capelli più sani e belli. Si tratta di opzioni naturali per il trattamento di svariati problemi del cuoio capelluto, e ne scoprirete senz'altro qualcuna adatta alle vostre esigenze. Dal momento che queste maschere sono naturali e biologiche, nutrono i capelli dalle radici. In questo modo, li rafforzano interamente senza apportare sostanze chimiche che possano danneggiarli. Siete pronti a scoprire queste maschere? Maschera alla cannella per capelli più sani 1. Maschera per il trattamento della forfora. La prima maschera a base di cannella per avere capelli più sani serve a, stimolare il cuoio capelluto. Aumentare il flusso sanguigno. Prevenire le infezioni micotiche e batteriche del cuoio capelluto. Tutto questo si traduce in un trattamento efficace contro la forfora provocata da infezioni micotiche. L'olio di oliva, anch'esso presente in questa maschera, è ricco di antiossidanti e possiede proprietà antibatteriche e antimicotiche in grado di eliminare la forfora e persino i pidocchi. Il miele idrata il cuoio capelluto e i capelli. Ingredienti 5 cucchiai di olio di oliva extravergine, 80 g, 2 cucchiai di cannella in polvere, 30 g, 2 cucchiai di miele preferibilmente biologico, 50 g. Preparazione Scaldate l'olio nel microonde o a bagno maria. Mescolate il miele biologico con l'olio d'oliva intiepidito. Aggiungete la cannella in polvere e mescolate fino a ottenere una pasta di consistenza cremosa. Applicate sul cuoio capelluto e lasciate agire da 30 minuti a un'ora. Risciacquate con lo shampoo, anch'esso preferibilmente biologico. Per ottenere risultati eccellenti, applicate questo trattamento due volte alla settimana. 2. Maschera per accelerare la crescita dei capelli La cannella è l'ingrediente ideale per prevenire la caduta dei capelli e la comparsa delle doppie punte. Grazie alle sue proprietà naturali in grado di migliorare la circolazione sanguigna, la cannella, accelera la crescita dei capelli. Dona essi lucentezza naturale. Migliora l'elasticità. Le sue proprietà antiossidanti proteggono i capelli dall'azione negativa dello stress, dei raggi ultravioletti e delle basse temperature. L'olio essenziale di rosmarino stimola i follicoli, consentendo ai capelli di crescere forti, ne riduce la caduta e ritarda la comparsa dei capelli bianchi. Ingredienti 2 cucchiai di cannella in polvere, 30 g, 1 barra 2 tazza di olio di oliva extravergine, 100 g, 10 gocce di olio essenziale di rosmarino. Preparazione. Riscaldate l'olio di oliva e aggiungete 2 cucchiai di cannella in polvere. Versate le gocce di olio essenziale di rosmarino. Mescolate fino a ottenere una pasta di consistenza cremosa. Applicate sulla radice dei capelli, senza strofinare. Lasciate agire la maschera per 30 minuti. Lavate i capelli con lo shampoo o con sapone biologico. Vi suggeriamo di applicare questa seconda maschera alla cannella almeno tre volte alla settimana per ottenere capelli più sani. Qualora non disponiate di tempo a sufficienza, basterà applicarla una volta alla settimana. 3. Maschera per i capelli secchi La terza maschera alla cannella è la scelta ideale per chi ha doppie punte, capelli crespi o privi di lucentezza. La cannella nutre e idrata il cuoio capelluto, mentre il tuorlo fornisce proteine, acidi grassi e vitamine. Lo yogurt dona lucentezza e idratazione ai capelli. Ingredienti 1 cucchiaio di cannella in polvere, 15 g, 2 cucchiai di yogurt naturale, 40 g, 1 cucchiaino di olio di oliva, 5 g, 1 tuorlo d'uovo. Preparazione. Combinate gli ingredienti e applicate il preparato sul cuoio capelluto, massaggiando delicatamente. Mettete una cuffia da doccia e lasciate agire la maschera per 20 minuti. Lavate con shampoo biologico. 4. Maschera per schiarire i capelli Quanto spendete ogni mese per schiarire i capelli? Certamente investirete una discreta quantità di tempo e di denaro. Se volete risparmiare allo stesso tempo e evitare di maltrattare la vostra chioma, provate la nostra ultima maschera per avere capelli più sani. L'uso costante della cannella schiarisce i capelli in modo naturale. Questo effetto viene accelerato se la uniamo con l'aceto, che illumina i capelli, lasciandoli setosi e senza nodi. Inoltre, ne ripristina la lucentezza eliminando la contaminazione e i residui lasciati dai prodotti chimici. L'olio di oliva agisce in concomitanza con l'aceto, dal momento che apporta nutrienti e grassi sani dopo aver disintossicato i capelli dai prodotti chimici. Ingredienti 1 cucchiaio 0 di cannella in polvere, 15 g, 2 tazza di aceto, 250 ml, 1 cucchiaio di olio di oliva, 16 g, preparazione Unite i 3 ingredienti e riscaldate per un minuto nel forno a microonde. Applicate il composto sui capelli puliti e asciutti. Utilizzate un asciugamano o una cuffia da doccia per avvolgere i capelli. Lasciate agire per tutta la notte e sciacquate.